ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video dopo quel video della sfida dell'iscritto mi sono chiesto ma perchè non fare una serie tutta mia di cat mario ed eccoci qui in questo primo episodio della serie di cat mario oggi mi sono messo l'intento di superare il primo livello prima c'è l'uscita sono capace un video per tua ragione un dicevo c'era di mario non non sono una e mezza ci sono riuscito a sparare il livello c'è riuscito di nuovo sono molto più ho visto che la parola di famiglia rialzato un trasera con il catamario 3 mi sono sicuro che appena finirò tutti i livelli di catamario 1 1 2 e per te sarà una serie lunga e a rischio della fronte 6 no no un po non c'è un uomo off vabbè 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 danno per il mio checkpoint min no 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 3 4 non c'è la riuscita di poter il minuto c'è l'unicidio non vale di odio per fare un uomo ci vuole uscire di nuovo carlino si sostituisce il contatto specie tocca simbolo non spero adesso scopo sinistra bene finalmente sono riuscito a postare il primo livello ci vediamo nella seconda puntata di catamaro che farò a brio sicuramente ciao ciao